Le preposizioni di tempo principali in inglese sono in, on, at, from to. Allora, in si usa con gli anni, i mesi, con le stagioni, i secoli, e con le tre parti del giorno, morning, afternoon e evening. Per la quarta parte del giorno, night, useremo invece at, at night. Visto che siamo at, continuiamo con at, at quindi si usa con night, con gli orari, con weekend, poi con periodi di vacanza come per esempio natale, pasqua, at christmas, at easter, indicando appunto il periodo intero delle vacanze. Poi si usa anche at breakfast time, lunch time, at dinner time. On, on si usa con i giorni della settimana, con le date, e anche se ci sono parti del giorno, se c'è il giorno della settimana si usa sempre on. e si usa quando indichiamo il giorno preciso di una data, per esempio, appunto per non confonderci con quello che avevamo detto prima, se io voglio indicare il 25 di dicembre dirò on christmas, se voglio indicare le vacanze di Natale dirò at christmas. E lo stesso anche vale per pasqua. On easter è il giorno di pasqua, at easter è il periodo delle vacanze di pasqua. On your birthday, il giorno del tuo compleanno. From to, che significa da a, indica appunto l'inizio e la fine di un periodo, quindi vediamo in questo caso from 1999 to 2003 e così via. Per ascoltare tutte queste parole potete utilizzare il file audio. Da ricordare due cose, con next and this non si usano proposioni di tempo, come anche con last. They are meeting next or this Saturday, si incontreranno sabato prossimo, non useremo on davanti. Come anche where did you go last summer, non useremo in. E quindi ricordarsi di questa eccezione. Qui ci sono cinque esercizi del laboratorio interattivo da svolgere per la comprensione dell'argomento che abbiamo affrontato.